AAAAAAAA! Nuovi ordini in arrivo per noi! AAAAAAAA! E terminate! Abitadoncio! Abbiamo nemici SDF Multipli! Sapete cosa fare! Sistemi bellici aggiornati. Online e pronti. Che cecchino di merda. Un fenomeno. Sistemi bellici. Sistemi bellici. Sistemi bellici. Unizioni. Ma che culo. Ho identificato un UAV nemico nei paraggi. Il nemico ha lanciato un UAV di bisturbo. Il nemico ha lanciato un UAV. Drone di supporto alleato disponibile. Scara alleato attivo. Il nemico ha lanciato un UAV. Il nemico ha lanciato un UAV. Non è la strategia ottimale per vincere. Non è la strategia ottimale per vincere. che bastardo. Ho identificato un UAV nemico. Il nemico ha lanciato un UAV di disturbo. 15 anni ha lanciato un UAV. Ho 15 ne ho uccisi. Cazzo. Peccato. Peccato. Un'altra che sono molto male. Obiettivo fallito. Contatto un medico. La tua promozione ti frutta nuovo equipaggiamento. Ho autorizzato delle opzioni extra per le tue missioni. Allora, una bella mappa tra queste due. Questa non me la ricordo. Genesis. Vediamo qual è. Quelli che vedete in giallo sono dei clan. Quindi quelli lì sono forti. Ah, l'ho capito qual è. Mappa di merda. Eh, vabbè. Ecco, una cosa mi tolgo. Le granate. La seconda arma. Tanto la pistola non mi serve. Ah no, me l'ha fatta metterla. Buono. Ah, qua. Mi seguo, ecco. Ricognizione completata. UNSA ostili confermati. Questa è una mappa molto frenetica. Dunque ragazzi, dalla PS4 al PC. Questo gioco è completamente un oltromonte. Che grafica bella. Pulita, limbida. Benvenuti in battaglia, soldati 7F. Chiasi, che imbimati pre 50 super. Per il sol Hatto invece. Oh, la botta non mi serve. La molta sac носita. ma dai UAV nemico drone di sopporto alleato scaraballeato attivo il nemico ha lanciato un nuovo attimo di scuola un nuovo attimo un nuovo attimo un nuovo attimo UAV nemico il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato il nemico è al 50% un UAV nemico ha lanciato un UAV di scarab nemico attivo copritemi ricarico UAV nemico in avvicinamento il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato un UAV di UAV nemico in avvicinamento il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato un UAV di disturbo il nemico ha lanciato un UAV di disturbo Ma no Non ci ho capito nulla E la riperdiamo ragazzi Va bene Io questa prova online l'ho fatta Il gioco funziona, il gioco è bello Si deve fare un po' di pratica Il gioco merita, è bello Li vale sti 3 euro ragazzi Li vale Sono stati indicati dei nuovi obiettivi Dai, qui ci pensiamo noi Allora abbiamo queste modalità per Mattia Ora me lo prendo Prendiamo il caffè Allora Tieni Grazie Allora le modalità Dece match a squadra Tutti contro tutti Dominio Prima linea Moshpit terrestre Gioco delle armi Invezione E guerra terrestre Penso che basti Poi si può mettere un veterano Un veterano significa un golpe e muori Poi c'è Arme epico Demolizione Guerra di gesti Poi ci sono i DLC Che noi non abbiamo Però Va bene Io sto con la live Un saluto a tutti Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.